Bentornati dal vostro Itopone, oggi siamo qui con... Anna E siamo qui su Tickle Him Allora, ho visto che lo scorso video in cui abbiamo torturato gente ha fatto un bel po' di visualizzazioni quindi perché non riproporvi un altro format che vi è piaciuto tanto? Perché no? E siamo qui con Annie Allora, prendete sto gioco, vabbè, in schermo verticale, è praticamente uguale a quello di prima Dobbiamo torturare la gente per farla parlare Vediamo che ha da dirci sta signora Ho chiamato il mio ragazzo di notte ma non ha risposto, potreste aiutarmi a sbloccare il suo telefono? Lo accettiamo Non fatelo mai Allora, con questo ditino te lo andiamo Che gioco stupido, tutto qui? Non c'ha manco l'audio, pensa un po' Quindi ragazzi, le musiche che sentite sono... Aspetta, non ha l'audio? No Facciamolo noi No Ma che c***o vuoi? Ma che sei fatta? Ma c'è amico, non rire questo Ma soffrendo Ragazzi, allora C'è Anna che ha cominciato a fare mezzolletico e non la finisce La voglio cantare per favore, non è professionale Comunque il primo numero è un due Il secondo è un due Il terzo è un tre Ah no, 3-3-2 Non so contare Allora, 3-3-2 Enter Ah, piange Che d'ore di io che sono appena stato... Ah, 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 ah Che d'ore di io, Anna Tranquillo Vuoi farlo tu questo? No, non c'è un cavolo da fare Ma devi soltanto passare il dito Appunto Andiamo, che dice questo? Mio fratello mi ha nascosto il mio quaderno Puoi aiutarmi? Va bene Abbiamo sbloccato un ventilatore, ma no Allora, dov'è sto quaderno? Eh? No? Guardami in faccia quando ti parlo No, no, Anna, ferma Ferma Dai, ho pure una buona Ti faccio vincere, guarda Eh, sì, vabbè Allora, passiamo qui che... Eh, è il bro, passiamo lì No, no, Anna, no No, Anna, no No, no, no No, no No, Anna, no No Mi sto divertendo più io che te a fare questo gioco Anch'io Aspetta, un due Allora, che stai a nascondere? Su Parla Parla Allora, bottiglia d'acqua Tavolo, bottiglia d'acqua Non c'è nessun tavolo qui Questo? Sì, è un mazzato Ho tirato a casa E l'ho rinato Ok, grazie Dammi questi soldini Eh, ora Possiamo Comprarsi qualcosa? Sì, a quanto pare Sì, a quanto pare Sì, possiamo Comprare qualcosa Eh, direi Alziamo questo qui Oh E infine No, non c'abbiamo nient'altro Vabbè Abbiamo Abbiamo equipaggiato Un nuovo Un nuovo tavolo Di tortura Anna Potresti, per favore Togliere le tue gentilissime mani Da me? Cioè, sai Siamo professionisti Dobbiamo lavorare seriamente Io non sono professionista Va bene Lasciami in pace Andiamo avanti Che verso è? Questa pecora Ha ingogliato Ha ingogliato le mie monete Aiutami a sputarla Eh Dai, guardiamoci questo video Accettiamo Ah no, è vero Non c'è connessione Quindi non si può fare Eh Allora che hai combinato tu? Su, confessi Allora Questo dito magico Di tortura Dai, fallo anche tu Amore Ah, ok No, no, non so di me Eh, no, non so di me Avevo capito su di te Ah, no, non so di me No Anna, dai Dai, per favore Hai detto a te Però non c'è anche tu Cioè, veramente Ma qua sul gioco Intendo Ma sul gioco È noioso È fluide Perché io No Allora Non ti darò soddisfazioni Allora Che stai a combinar Su, confessi Che poi questi capelli bianchi Sembrano vecchie Eh, una donna Ancora Era questo Verre Cioè Ma crede Non c'hanno fantasia Non l'ho risolto Dammi i soldi allora Dammi sti soldini Andiamo di nuovo Comunque guarda il ventilatore Che gira al contrario Sta esferando aria Praticamente Andiamo nello shop Potenziamo questo va E vabbè Dal dentista Dal dentista Siamo andati Guarda anche il divano Oh, ecco Abbiamo speso tutti i soldi E adesso? Che cosa vediamo qui che dice? E che cosa significa Leopitness Ah, il testimone Forse ha visto L'uomo che ha rubato Le mie monete Non vuole Non vuole collaborare E dare dettagli Vabbè Lo facciamo cantare noi Ma non è quello Ma non è quello lì Che stiamo Vabbè Allora su Serve che lei collabori Quindi per favore Ci dica dove Che cosa ha visto Occhiali Allora Eh Vogliamo parlare? Vogliamo parlare Per favore? No No, no, no Basta 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 Ma questo gioco Mi fa venire qualche idea Quale idea? Sentiamo No No, no, no No Allora Con gli occhiali Bianco Bianchi E questo Ok Grazie mille amico Sei stata una vera fonte di informazione Ah, il prossimo fallo tu Ok No, Anna Non intendo in quel senso Devi giochi No 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 ragazzi No 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 Va bene Va bene Va bene L'hai voluto fare te questo gioco? Sì ma non tendevo su di me Dio Va bene Ragazzi Il video di oggi termina qui Anna purtroppo sta sgravando Unnaggia a teo E ci vediamo alla prossima dal vostro Ehi topone Oh che carino Quando la dici te Ecco Bye bye Alla prossima signori E questa è la vendetta Ciao 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 Ciao